Mara Nicotra, biologa, chiediamo di conoscere la salute del nostro mare e del nostro ambiente. Bella domanda. Allora, la salute del nostro mare ovviamente non è delle migliori, così come quella della nostra aria, che purtroppo è insalubre a causa delle troppe emissioni di sostanze odorigine cancerogene che H24 stanno distruggendo e disturbando col cancro le nostre popolazioni limitrofe agli impianti. Per quanto riguarda la salute del nostro mare, dagli ultimi studi effettuati dalla sottoscritta sui pesci malformati ovviamente si riscontrano ancora quelle famose concentrazioni eccessive di mercurio, cadmio, zinco, piombo e altri metalli pesanti nei sedimenti marini della rada di Augusta, ma anche nei pesci. Tant'è vero che per biaccumulo questi organismi hanno subito delle deformità alle vertebre. Abbiamo riscontrato diverse specie commestibili che presentavano delle malformazioni scheletriche a carico della colonna vertebrale, a forma di V, a forma di Y, addirittura una palamida bifida cioè con due colonne vertebrali e quant'altro. Cosa bisogna fare nell'immediato oltre a ridurre ovviamente le emissioni? Le bonifiche da sole bastano a colmare le lacune di decenni? Sicuramente una bonifica ecosostenibile dei fondali della rada di Augusta con delle tecniche che non siano distruttive dei fondali ma per esempio potremmo utilizzare la bio-redimation, la fitodepurazione che comunque già l'Università di Messina con sede a Priolo sta effettuando questo studio cioè attraverso l'impiego di batteri stiamo riuscendo praticamente a verificare se i metalli pesanti depositati da oltre mezzo secolo nei fondali della rada di Augusta possono essere inglobati da questi batteri a impatto zero. Per quanto riguarda i rimedi sulla riduzione delle emissioni oltre ad attivare i piani di sanamento ambientale che purtroppo è dal 1995 che non funzionano nonostante i soldi pubblici stanziati è necessario urgentemente realizzare un decreto ad hoc che fissi i limiti tabellari per tutte quelle sostanze cancerogene o d'origine che stanno uccidendo col cancro le popolazioni limitrofe agli impianti. Grazie.